Missione, cantare al karaoke una canzone azzeccando tutte le parole. Per questa prova, per questa prova, vorrei qui con me due con la faccia molto tosta o due che sappiano bene le lingue. Valera Gracio e Francesco Progobio, venite qua, venite qua. Venite ragazzi, venite. Non ho né l'una né l'altra io. Non è neanche la faccia tosta? Niente, neanche la lingua. Neanche la lingua, allora però voi dovrete semplicemente cantare. Basta seguire le parole di un karaoke, ma non canterete in italiano. Neanche in inglese, neanche in francese, neanche in spagnolo, ma in tutte le altre lingue del mondo. Attenzione, conoscete questa canzone? Ascoltate. Questa è Mundiam's Kubakia, che non so pronunciare. Però ricordo che il cantante era Panjabi MC. Allora, come non è cantata? Venite, fate un passo avanti, così vedete meglio sul nostro monitor. Fatta da lui è bellissima. Fatta da voi, come sarà? Meraviglioso. Boh, allora, allora. Iniziamo così. Tra l'altro il testo è in indiano. Non so cosa... Allora, c'è il mio sosia. Vieni, vieni un attimo. Eccolo qua. Ci somigliamo sempre di più, eh. Allora, tu sei d'origine indiana, ma l'abbiamo scoperto. Allora, eh, leggo qua. Valerichemuchiale, bachinachilar, oritinarichaghev. Il rettaio... Ok, bravo, vedete, lui la sai, indiano è indiano. Bravo! Di cosa parla questa canzone? Di cosa parla? Questa? Sì. Non lo so, Max. Non lo sai? Come sei indiano? Eh, ho capito, ma in Panjabi, uno dei 22 lingue ufficiali dell'India... Tu non la conosci? No. Vatti ad aggiornare, va, vatti ad aggiornare, vatti ad aggiornare, ragazzi. Non so il significato, ma so che voi sarete bravissimi. Allora, inizierai tu, inizierai tu, cara Valeria. Io? Eh, guardate, è facile, sono anche i numerini. Quando si accende di rosso la frase, eh? Beh, quando... Vuoi cantare? Ah, ah, ah. Ah? Allora, quella è una questione che cazzo. Ok, pronta? Vai! Via! Brava! Continua, continua, senza dubai. Ma cosa sto dicendo? Non lo so nemmeno io. Non bollare, non bollare, non bollare. Allora, stai, vai, cambio. Cambio, bravo, Francesca, è difficilissimo. Vieni, vieni qui dal centro. Sei, cinque, quattro, tre, due, via. Allora, stai, vieni qui dai? Vieni. Bravo! Bravissimi, brava superata, ma lui conosce il Punjab, grazie Milano, io penso che Milano sia la città più bella d'Italia, si capisce benissimo che lui parla il Punjab, si capisce benissimo, e lo conosce, bravi, bravissimi, ce la capiamo così che è meglio, siete d'accordo? Ormai è tardi, si può dire che ha ripetuto la stessa parola 25 volte, dico qual è la parola? Non dire qual è la parola, grazie, andate a posto!